Dove vedere la notte degli Oscar in televisione e in streaming? Ciao, io sono Valerio Novara e come al solito anche quest'anno noi di Ciacchiazione seguiremo la notte degli Oscar, faremo una maratona live la notte degli Oscar nella notte fra domenica 12 e lunedì 13 marzo, andrà in scena al Dolby Theater di Los Angeles come tutti gli anni. Noi di Ciacchiazione ovviamente faremo una lunga maratona a partire dalle 23 e 30 di domenica sera 12 marzo sui nostri canali YouTube e Facebook in contemporanea. Ricordo che la cerimonia verrà trasmessa comunque in chiaro in TV, su TV8 inizierà intorno alle 23 e 15 e in contemporanea verrà trasmessa anche su Sky e quindi vi ricordo che sia chi ha l'abbonamento Sky ma anche chi non ce l'ha potrà seguire la notte degli Oscar insieme a noi. Avremo tantissimi ospiti quindi potete tranquillamente seguire con l'audio la nostra diretta e vedere la notte degli Oscar su TV8 perché insomma seguiremo il red carpet, commenteremo come al solito senza pietà tutti i vestiti che vedremo sfilare sul red carpet del Dolby Theater di Los Angeles e poi insomma la reazione ai premi che verranno dati durante tutta la cerimonia degli Oscar che ci sarà, ricordo, nella notte fra il 12 e il 13 marzo. Come al solito faremo un'introduzione con dei giochi tra di noi, con degli ospiti per indovinare i film, ognuno di noi penserà a un film, in questo caso faremo una serata dedicata ai film degli Oscar e gli altri potranno fare domande alle quali la persona che ha pensato al film potrà rispondere solo sì o no. Insomma partecipate insieme a noi nei commenti e seguiteci anche perché vi terremo compagnia per non farvi addormentare fino al momento in cui verranno proclamati i premi. Quindi io vi do appuntamento a domenica sera 12 marzo intorno alle 23.30 inizieremo, ci sarà un video introduttivo come tutti gli anni, sorprese sia per chi ci segue sia per i miei compagni di viaggio, un video che ci riguarda molto emozionale su il team che compone Ciacca e Azione e poi inizieremo la nostra live facendo salire tantissimi ospiti anche di pagine e siti con cui collaboriamo, quindi non saremo soli e ci sarà una sfida a colpi di pronostico in attesa che inizi il red carpet a luna e la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 di notte. Quindi iscrivetevi al nostro canale YouTube Ciacca e Azione, se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina, mettete mi piace su Facebook e seguiteci su Instagram dove ogni giorno pubblichiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie TV.